Ciao bambini, io sono Margherita. Oggi è il mio primo video, quindi spero che diventeremo molto molto amici. Non fate caso a qualche errorino per piacere. Oggi vi racconterò una storia con le mie penipone. Per piacere lasciate un pollicione e iscrivetevi al mio canale. Ciao! La la la, la la la, com'è bello passeggiare. Oh, è vero, sono venuta in città perché devo spedere la lettera alla mia amica. Ecco qui la cassetta della posta. Tic! Ecco fatto! Oh, che bella la mia città. Però mi tento un po' sola. Vediamo se ho l'ora in casa. Tling-long! Mi pare che non c'è nessuno. Proviamo a risuonare. Tling-long! Tling-long! Uffa, sono da sola. Oh, che bella la libreria! Passerò qui un pochettino del tempo a guardarla. Lululululululululu! Che bello, sono arrivato in città per comprare il mio libro preferito. Oh, guarda chi c'è! Ehi là, bionco! Sto guidando il Wimmy Time! Ehi Jack, cosa ci fai qui? Sono venuto a comprare il mio libro preferito, è appena uscito! Oh, che bello! Stavo proprio guardando la vetrina! Oh, che bello! Posso vedere? Sì, certo! Oh, grazie! Ehi, quello lì è proprio il mio libro preferito! Ehi, devo assolutamente entrare a comprarlo! Ecco, finalmente l'ho comprato! Oh, che bello! Posso vederlo? Ma certo, sediamoci a quel tevolino! Allora, raccontami di che cosa parla il tuo libro! Questo libro parla delle grandi storie dei dinosauri! Oh, che bello! Bip, 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 bip! I gelati! Che gioia, sono arrivati i gelati! Oh, sì, è fantastico! Dai, ne prendiamo uno? Oh, sì, un gelato per uno! Ciao ragazzi, volete un gelato? Sìììì! Ecco qui ragazzi! Ragazzi, spero che il gelato vi piaccia! Grazie! Grazie! Mi diverto proprio con te! Che ne dice che ci fidanziamo? Sì, certo, come no! Bambini, volete vedere come finisce? Se lo volete, seguitemi nel prossimo video! Ciao! Ciao!